L'iniziativa dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta di potenziare i servizi mediante un'innovativa applicazione rappresenta un passo importante verso la modernizzazione del sistema sanitario e il miglioramento dell'assistenza fornita alla comunità locale. Questa iniziativa mira a semplificare e agevolare l'interazione tra gli utenti e l'assistenza sanitaria sfruttando le tecnologie digitali e la diffusione dei dispositivi mobili. L'obiettivo principale di questa nuova applicazione è fornire un facile accesso ai servizi sanitari consentendo agli utenti di gestire in modo efficiente le prenotazioni per esami e visite specialistiche attraverso il proprio smartphone. L'integrazione con il sistema pubblico di identità digitale Speed facilita l'accesso garantendo al contempo la sicurezza delle informazioni personali e sanitarie degli utenti. Tra le funzionalità offerte dall'applicazione la possibilità di accedere ai propri referti prenotare e modificare o annullare esami e visite specialistiche è di particolare rilevanza. Questo approccio snellito e diretto contribuisce a rendere più efficiente e comodo il processo di gestione degli appuntamenti e delle informazioni mediche per gli utenti. Inoltre l'applicazione offre la preziosa opportunità di monitorare in tempo reale i dati relativi agli accessi al pronto soccorso. Questo aspetto apporta maggiore trasparenza e consapevolezza riguardo all'affluenza e all'occupazione delle strutture sanitarie consentendo agli utenti di prendere decisioni più informate riguardo al proprio accesso ai servizi di emergenza. L'accesso ai servizi sanitari tramite un'app mobile rappresenta una soluzione moderna e comoda che può migliorare l'accessibilità all'assistenza sanitaria soprattutto per un vasto pubblico che è abituato all'uso quotidiano degli smartphone. Questo approccio può contribuire a semplificare la fruizione dei servizi sanitari promuovendo al contempo un maggiore coinvolgimento degli utenti nella gestione della propria salute.